Musica Sindaco, prima che inizia vogliamo raccogliere qualche battuta con lei, perché nel quartiere Salicelle? Perché non accetto discriminazioni, non accetto l'idea che nelle Salicelle non si possano tenere comizi, non accetto l'idea che nelle Salicelle i voti si comprano, perché nelle Salicelle ci sono anche tante persone per bene che devono essere coinvolte, che devono partecipare, che hanno avuto una risposta dall'amministrazione e con le quali io voglio dialogare e voglio costruire tutte le decisioni che riguardano il quartiere. Allora, una campagna elettorale che lei sta facendo da solo contro tutti? Sì, io la sto facendo da sindaco e sono il sindaco che parla con la sua città, con la sua gente. Non ho bisogno di parate, non ho bisogno di generali, ho bisogno soltanto di interloquire con le persone e di ascoltare le persone, di spiegare alle persone perché mi sono ricandidato e che cosa voglio fare per la città. Sì, io la sto facendo da solo